Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui con l'unboxing dell'ordine che ho fatto il 7 febbraio Su Fabrica Magia, è arrivato oggi Dunque da Napoli, relativamente breve la spedizione Non vedo davvero l'ora di aprirlo e vedere cosa c'è dentro Ora lo aprirò, velocizzerò la parte dell'apertura Perché diciamo che non è il massimo vedere mai che apro un pacco E poi vi richiamo quando ho finito di aprirlo Ok ragazzi, l'ho aperto, ho tolto qualche centinaia di queste cose E ecco cosa ho ordinato Un mazzo bicycle assortito Con carte doppia faccia, doppio dorso, faccia bianca, dorso rosso, varie cose così Poi due bicycle seconds, uno rosso e uno blu Avevo parecchi mazzi bicycle ma bicycle seconds non ne avevo ancora Quindi ho voluto provarle anche perché costavano veramente pochissimo E poi il mitico 52 Shades of Red Che aspettavo veramente da tantissimo Non vedevo l'ora di averlo E quindi sono davvero molto contento Adesso mi eserciterò, proverò bene a vedere com'è E poi arriverà naturalmente il video con la performance Bene, questo era quello che ho ordinato Qua c'è tutto il dettaglio della spedizione E niente Questo era solo un video veloce per farvi vedere cosa ho acquistato E alla prossima, ciao!